benvenuti ragazzi in una nuova lezione del canale conoscenza generale questa volta vi parlerò dei trasduttori cos'è un trasduttore o sensore è un dispositivo in grado di rivelare una grandezza fisica di tipo qualsiasi che possa essere magnetico luminoso termico meccanico chimico eccetera e di trasformarla in una grandezza di altro tipo generalmente elettrica sia che possa essere corrente o tensione il motivo della trasformazione che in questo modo il segnale di uscita generalmente una tensione una corrente è facilmente manipolabile mediante dei circuiti elettronici in modo da amplificarlo linealizzarlo e filtrarlo ad eventuali disturbi condizionamento del segnale un segnale analogico potrà inoltre essere facilmente convertito in digitale mediante il convertitore ad ed acquisito da un sistema di elaborazione dati e trasportato o trasportato a distanza da un sistema di comunicazione dati i segnali standard di un trasduttore possono essere un segnale di un corrente da 0 a 20 miliampere segnale di corrente da 4 a 20 miliampere e segnale in tensione da 0 a 5 volt oppure segnale in tensione da 0 a 10 volt i trasduttori si distinguono in due tipi attivi cioè che producono direttamente tensione corrente e passivi che hanno bisogno dell'alimentazione per funzionare i trasduttori vengono classificati in primari o fondamentali quindi trasduttori di temperatura di luminosità di posizione di campo magnetico eccetera mentre quelli secondari sono trasduttori di forza di accelerazione di pressione eccetera che dipendono dai primari e che quindi vengono definiti delle variazioni dei primari nei trasduttori primari la grandezza di ingresso viene trasformata direttamente nella grandezza di uscita nei secondari viceversa la grandezza di uscita si ottiene dalla grandezza di ingresso in modo indiretto ovvero la grandezza di ingresso viene convertita in una grandezza intermedia e quest'ultima viene convertita nella grandezza di uscita quindi ci sono anche i trasduttori secondari che cosa sono sono i sensori di forza accelerazione e pressione basati sui estensimetri la maggior parte dei sensori di posizione basati sui sensori fotoelettrici i suoi sensori di campo magnetico i sensori invece di velocità sono basati sui sensori di posizione si possono elencare anche una serie di caratteristiche che possono interessare un trasduttore ad esempio il range di ingresso la sensibilità l'errore di non linearità tempo di risposta offset di uscita ripetitività risoluzione campo di ingresso o portata e l'intervallo praticamente che è entro cui può variare l'ingresso e poi l'isteresi adesso andiamo a vedere per ognuno la spiegazione il range è l'intervallo di valori in cui il trasduttore lavora secondo i parametri stabiliti appena esce dal range il trasduttore non funziona più e ritorna a lavorare appena rientra nell'intervallo il range di ingresso o campo di ingresso definisce i limiti entro cui può variare l'ingresso mentre il range di uscita o campo di uscita definisce i limiti entro cui può variare l'uscita la sensibilità invece indicata con esse del trasduttore è il rapporto fra la variazione della grandezza d'uscita e quella dell'ingresso che l'ha determinata lo strumento risulterà essere molto sensibile quando la parità di grandezza di ingresso la grandezza di uscita è molto elevata invece l'errore di non linearità di solito l'errore che il costruttore fornisce è l'errore di non linearità ed è espresso come spostamento massimo della retta ideale il tempo di risposta invece rappresenta il tempo che intercorre dal momento che l'ingresso assume un certo valore a quello in cui questo è presente in uscita i migliori trasduttori hanno un tempo di risposta molto basso e gli offset di uscita cosa sono? diciamo che l'offset di uscita indica la bontà del trasduttore che risulterà essere migliore quanto minore sarà il valore assunto da tale parametro esso viene verificato zerando gli ingressi e visualizzando il valore presente in uscita invece la ripetitività è un altro parametro importante anche se la sua definizione precisa varia da costruttore a costruttore è la ripetitività che quindi significa che vale a dire la costanza nel tempo delle caratteristiche del trasduttore cioè la sua resistenza all'invecchiamento invece che cos'è l'isteresi? alcuni trasduttori presentano una caratteristica diversa seconda se l'ingresso passi dal valore minimo al massimo o viceversa mentre la risoluzione indicata con R esprime la variazione minima di uscita rispetto al fondo scala infatti la formula è R uguale 1 fratto delta I minimo I minimo messo al pedice quindi piccolo scritto così un buon trasduttore presenta una bassa risoluzione cioè può appezzare segnali di piccolo valore piccolo valore riferenti alla portata del dispositivo mentre un buon trasduttore dovrebbe avere caratteristica di trasferimento lineare range ampio, alta sensibilità, bassa risoluzione, piccola costante di tempo assenza di isteresi ora invece parliamo dei sensori di temperatura termoresistenze molti sensori di temperatura come le termoresistenze sono basati sul fatto che la conduttività di un materiale conduttore o semiconduttore dipende più o meno fortemente dalla temperatura la formula R tra parentesi T uguale R0 tra parentesi 1 più A T chiusa parentesi dove R0 è la resistenza a 0 gradi centigradi e T è la temperatura di gradi centigradi infine A è un coefficiente positivo misurato in gradi alla meno 1 i termoresistori hanno ampi range di utilizzo da meno 200 gradi a 800 gradi però più 100 in quel senso hanno una buona linearità e sono precisi e stabili i metalli che si utilizzano sono rame, nickel e platino il difetto principale è che A è piccolo per cui sono necessari circuiti amplificatori con forte amplificazione inoltre per trasformare la variazione di resistenza in una variazione di tensione occorre farli attraversare da corrente e ciò comporta una variazione di resistenza per effetto Joule che introduce un errore nella misura di termoresistenza è la PT100 al platino che presenta 100 Ohm a 0 gradi e 375 Ohm a 800 gradi i termosistori Ntci ad esempio se invece di usare questi metalli qua si utilizzano semiconduttori puri il sensore che si ottiene ha un coefficiente di temperatura negativo e molto elevato si ottiene cioè una maggiore sensibilità rispetto ai termoresistori i termistori Ntci sono realizzati come uscele di semiconduttori composti ossidi di nickel e manganese e non con silicio o germanio la resistenza di questi ultimi materiali è infatti troppo sensibile alla presenza di impurità nel cristallo adesso vediamo la caratteristica di un termistore Ntci e deltivo praticamente la caratteristica dei resistori è pesantemente non lineare si presentano perciò a lavorare bene solo dove la linearità non è importante ad esempio i controlli di temperatura o dove i range di lavoro sono ristretti ad esempio la termometria clinica e possono anche venire utilizzati in alcuni trasduttori secondari come dei misuratori di flusso per fluidi i termistori Ptci invece sono materiali semiconduttori fortemente drogati possono presentare comportamento simile a quello dei metalli avere cioè un coefficiente di temperatura positivo col vantaggio rispetto a quello dei metalli di essere più molto grande ecco la maggiore sensibilità va a scapito tuttavia della minore linearità all'aumentare della temperatura aumenta la resistenza però adesso vediamo quale sono le differenze tra Ptc ed Ntc il Ptc è più sensibile ma meno lineare inoltre ha un range che varia fra meno 50 e 150 centigradi i sensori di temperatura integrati AD590 ad esempio esistono sul mercato dei dispositivi integrati che comprendono oltre al sensore a semiconduttore degli appositi circuiti per amplificare il segnale fornito dal sensore e per linealizzarlo il più noto è la D590 dell'analog device il quale si comporta come un generatore di corrente tale dispositivo va alimentato con una tensione fra 4 e 30 volt e produce sui poli una corrente che dipende linearmente dalla temperatura il funzionamento in corrente presenta il vantaggio di rendere il segnale di uscita indipendente da eventuali variazioni della tensione di alimentazione quindi la pila parzialmente scarica oppure alimentazione disturbata il contenitore metallico di tipo T052 consente una elevata velocità di risposta costante di tempo termica bassa e la costante di tempo termica è la costante di tempo dell'esponenziale che esprime l'andamento dell'uscita nel tempo quando la temperatura subisce una variazione a gradino bene ragazzi allora con questo video che è terminato vi auguro così una buona giornata e per di più se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccate mi piace se vi è piaciuto il video mettete dei commenti qui sotto e condividete questo video come anche tutti gli altri video che ho caricato sul mio canale in modo che più persone possano conoscerlo e possano così iscriversi più persone possibili e oltre a questo vi saluto ciao alla prossima grazie a tutti